ben ritrovati di nuovo su review breve recensione di questa bombola del gas marcata camping gas modello cv 300 plus come c'è scritto qui in alto capienza 250 grammi link in descrizione di amazon per acquistare anche voi in offerta 5 euro come l'ho acquistata io e l'ho acquistata sinceramente per andare a fare trekking e portare quindi qualcosa di contenuto come vedete le dimensioni sono di 8 e mezzo 9 centimetri di altezza ma poi una larghezza di nove e mezzo ed un peso effettivo di andiamo a misurarlo insieme 354 grammi quindi una bomboletta che è veramente contenuta c'è la tecnologia ovviamente easy click come potete leggere anche qua quindi rimuovete quella la valvolina e andate ad appoggiarla mutano propano il contenuto e l'ho acquistata poi in abbinamento anche con la parte superiore sempre della camping gas che andrò a recensire un altro video vi lascio magari anche qua il link in descrizione di amazon devo dire che preferisco acquistare per questi articoli un po più delicati come bombolette del gas prodotti diciamo di un brand conosciuto come questo piuttosto che affidare prodotti magari cinesi dove magari siete su in montagna e mi accorgete che la valvola era difettosa il gas è fuori uscito e quindi rimanete senza un passo caldo o nella peggio magari vi esplode quindi affidatevi sempre al sinonimo di qualità marche conosciute in questi casi e devo dire che in generale come caratteristiche trovate tutto sulla pagina comunque la vado a guardare al volo se c'è qualcosa che potete un po si dice che può andare bene anche per le lanterne per tutti i dispositivi che hanno questa compatibilità e una spinta extra dell'acqua bollente anche a meno 5 gradi quindi anche a meno 5 gradi potete comunque utilizzarlo senza problemi bene se avete domande non esitate a formule per questa recensione è tutto